Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Questa domenica si correrà l'edizione numero 29 della Maratona di Roma. Prima chiusura al traffico già questa sera dalle 20 e sino alle 5.30 di domani in via dei Fori Imperiali per l'allestimento delle strutture nell'area che sarà a partenza e traguardo della gara. A partire dalle 8 di domenica mattina le chiusure al traffico saranno estese a tutti i 42 km di percorso. Modifica in programma per 73 linee del trasporto pubblico. Prevista la chiusura della stazione metro Colosseo da inizio servizio domenica sino alla conclusione della Maratona. Le altre notizie. Una nuova isola ambientale a Roma sarà realizzata nel quartiere di Fonte Meravigliosa tra Viale Gradi, Via Ferruzzi e Via Tommaso Arcidiacono. I lavori già avviati dureranno circa 6 mesi. L'intervento a cura di Roma Servizi per la Mobilità prevede percorsi e spazi pedonali in sicurezza e una rete ciclabile locale e infrastrutture per agevolare la mobilità dolce e per migliorare la sicurezza stradale. Per il momento è tutto. Un saluto dal Tg della Mobilità.